Buonasera ai nostri telespettatori, vi ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Continuiamo ad incontrare i protagonisti della politica regionale nella prospettiva delle elezioni che ci saranno il prossimo 10 di marzo in Abruzzo per il rinnovo del Consiglio regionale. In questa settimana incontreremo anche i rappresentanti istituzionali, oltre che politici della consigliatura che si sta per chiudere a Palazzo dell'emiciclo. Pertanto saluto e ringrazio il Vice Presidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. Buonasera Pettinari. Buonasera direttore, buonasera a te i telespettatori. Grazie per aver accolto il nostro invito. La prima domanda è quella legata ad un bilancio di questa attività che l'Assemblea ha svolto per il quinquennio, per questa legislatura in cui poi parleremo naturalmente di politica. Lei ha avuto anche un ruolo istituzionale molto importante, che è stato quello di governare l'Assemblea nei momenti anche di maggiore difficoltà, di tensione, cercare anche un'arte, se possibile, di mediazione e comunque di rispetto delle istituzioni che voi avete rappresentato in questi cinque anni. caratterizzati da tanti eventi, mi viene da pensare la pandemia che ha paralizzato molto l'attività legislativa in Regione, ma dal punto di vista del lavoro svolto, il Consiglio nel suo complesso, che quinquennio si lascia alle spalle, Vice Presidente? Sì, grazie di questa domanda. Intanto una fotografia molto breve su quello che fa, di cui si occupa il Regione Abruzzo, il Regione Abruzzo per l'80% giù di lì del bilancio si occupa di sanità, poi c'è un residuale, il trasporto pubblico regionale, poi tutte le altre tematiche. Quindi io non posso che fotografare quello che fotografano tantissimi cittadini. Purtroppo noi abbiamo degli ospedali che in continuità, io dico questa amministrazione regionale di centro-nestra rispetto alla precedente di centro-sinistra, abbiamo una sanità abbastanza al collasso, direi. Ecco, questo è un bilancio negativo. Io registro purtroppo ancora lunghissime liste d'attesa e il cancro di questa nostra legione è la mobilità passiva. Tanti cittadini che sono costretti ad uscire fuori dai confini di Regione Abruzzo per andarsi a curare altrove. Noi abbiamo fatto anche una legge sui malati oncologici in questa consigliatura, è una cosa positiva sicuramente, votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale, però nella sua positività troviamo delle negatività perché quella legge va a rimborsare tutti coloro che partono nei cosiddetti viaggi della speranza e vanno oltre confine per curarsi, rimborsare le spese di vitto e alloggio e quant'altro. Noi non dobbiamo far uscire i nostri pazienti. I pazienti vanno cullati, vanno accuditi e vanno soprattutto curati. L'offerta sanitaria deve essere soprattutto migliore. L'abbattimento delle liste d'attesa, io da anni vado predicando l'abbattimento delle liste d'attesa, abbiamo ancora purtroppo cittadini che prenotano una visita e se la vedono appunto realizzata dopo un anno, un anno e mezzo anche malati oncologici. Ecco, questo non è degno di una regione, ma questo problema dobbiamo essere onesti, un problema che noi abbiamo con questa amministrazione regionale di centro-destra, che io dico in continuità con la precedente, io l'ho sempre considerato un po' centro-destra e centro-sinistra, due facce della stessa medaglia. Ecco, già risolvere, sì, sarebbero abbattute, ma risolvere il problema delle liste d'attesa e soprattutto il problema del concessionamento dei pronto soccorso. Ecco, un altro dramma di questa regione in pronto soccorso, ma soprattutto il pronto soccorso di Pescara, capoluogo di provincia, dove un cittadino entra e abbiamo registrato anche attese di 5-6 giorni persone parcheggiate per quali motivi, quali sono i motivi. Sono 3-4 ordini motivi. Uno perché quando il medico chiama il reparto, il reparto non ci sono i posti letti, quindi rimani in pronto soccorso, in pronto soccorso si crea un vero e proprio reparto, più reparti accorpati. Le dimissioni tante volte non possono essere fatte perché all'esterno, nelle residenze sanitarie assistite e quant'altro, non si trovano posti letto e quindi si crea un caos generale. Ecco, se si fossero risolti questi piccoli grandi problemi, abbattimento delle liste d'attesa, abbattimento della mobilità passiva e soprattutto risolvere il problema dei pronto soccorsi, io avrei dato un giudizio positivo. Non posso dare giudizio per questo e non mi voglio dilungare sul trasporto pubblico. Siamo sulla sanità perché l'ultima parte di questa consigliatura, proprio le prossime settimane, dovrebbero essere dedicate all'esame del riordino della rete ospedaliera, con il disegno che è stato approvato dall'Aggiunto e che è stato validato in qualche modo dal Governo. In Consiglio regionale che margini ci sono per una discussione su questa proposta che poi va a riordinare tutto il sistema degli ospedali in Abruzzo? Ci potrebbero essere dei margini se solo la maggioranza lo volesse. Il problema è questo, è che noi chiediamo da anni, io ho chiesto da tantissimi mesi di portare questo documento in commissione, in Consiglio regionale. Le immagini, questo documento è arrivato qualche giorno fa in commissione, ancora viene incardinato in Consiglio regionale, si rischia che in Consiglio regionale ne iniziamo a parlare qualche mese prima della fine della consigliatura e vuol dire che non si vuole davvero concertare, condividere un percorso con tutte le forze attive in Consiglio regionale. Questo è sbagliato perché la condivisione, soprattutto su uno strumento del genere che dovrebbe decidere sulla vita e la morte dei nostri pazienti, non è stato condiviso. Questo è sbagliato. Però ricordiamo anche che nella precedente amministrazione in centro-sinistra io chiedevo le stesse cose e non c'era nessuna condivisione, quindi si ripetono gli stessi errori. Io ritengo che questo sia un provvedimento, il piano di riordino della rete sanitaria, un libro dei sogni, ma un libro dei sogni che all'interno, oltre ad avere tanta propaganda, ha tantissime lacune. Non si parla, ad esempio, di valorizzare gli ospedali minori e che cosa si vuole fare con gli ospedali minori. Non si parla di un vero potenziamento della medicina territoriale. Non si parla di trattare tutto quello che io dico è sporco, non dovrebbe entrare in ospedale all'esterno delle strutture sanitarie per cercare di non ingolfare e quindi di sgravare le strutture sanitarie. Quindi non è un piano che guarda al futuro, non è un piano che guarda all'abbattimento delle liste d'attesa, non è un piano che guarda alla mobilità passiva, ma è un piano che ripercorre quel che è stato nella sanità. Ecco, la rivoluzione sulla sanità non c'è stata. Spesso si deve, si è costretti a ricorrere e a dover anche ringraziare il privato, perché diciamola tutta, il privato fa da complemento, ma non essendoci una sanità pubblica, almeno c'è la sanità privata, ma non dovrebbe essere così. La sanità privata dovrebbe fare da complemento, però noi ci ritroviamo che grazie a delle strutture private che si sostituiscono al pubblico possiamo ancora campicchiare in Abruzzo. Questo va detto, questa è la realtà dei fatti. Pettinari, dal punto di vista del consigliere regionale Pettinari, che sta per lasciare l'Assemblea, perché tutti sanno, anche i muri in Abruzzo, che lei non si ricandiderà alle regionali, ma sarà candidato sindaco di Pescara, quali risultati, quale medaglie si vuole appuntare in questi cinque anni di risultati ottenuti, lei ha già fatto riferimento alla legge per sostegno alle famiglie dei malati oncologici, ma ci sono anche altri aspetti che insomma sono stati affrontati e legiferati, anche se il termine non è proprio, grazie alla sua iniziativa personale. Guardi, sì, a me piace sempre poco ricordare i progetti di legge o l'iniziativa, gli emendamenti approvati, cosa che forse sono l'unico che fa, parla sempre di comunque battaglie, battaglie, però quando ottengo un risultato io non lo pubblicizzo mai, perché credo di aver fatto solo ed esclusivamente il mio dovere. Sicuramente si sono stati diversi obiettivi centrati, non a caso obiettivi sulla sanità, la legge sui malati oncologici, che ricordo porta la mia prima firma, ma dalla precedente legislatura. Nella precedente legislatura non me l'hanno approvata, poi finalmente in questa è stata approvata all'unanimità, con l'aiuto di tutte le forze politiche, ma non solo, sulle case popolari abbiamo ottenuto, io dico, quasi una grande rivoluzione, anche se poi non viene applicata. La legge che consente di stringere le maglie per lo sfratto degli occupanti abusivi e la legge che chiede legalità nelle case popolari, la legge che va a verificare se quella persona è un condannato, non è un condannato, fa attività in legge, quella porta la mia prima firma, i primi emendamenti erano la mia prima firma, poi sono stati copiati, va bene tutto, va bene tutto, io lo dico sempre, non c'è problema, togliete la prima firma di pettinare, l'importante è che si approvano, quindi anche lì è stata fatta una grande rivoluzione sul trasporto pubblico regionale, ho chiesto tante cose, alcune piccole cose ci sono stati dei correttivi, abbiamo consentito alle aree interne di ottenere qualcosa, anche per valorizzazione dell'area interna, soprattutto sgravare il costo dei biglietti, è stato fatto ancora poco, biglietti dell'autobus, si deve fare ancora molto di più, dobbiamo lavorare molto di più sull'ambiente, sulla tutela del mondo animale, ma soprattutto sulle piccole e medie imprese, sul mondo dell'impresa, noi abbiamo, in Regione Abruzzo, in periodo della pandemia, promesso dei soldi un po' a tutti, ecco, quei soldi, io ci sono ancora migliaia di imprese che mi chiamano e dicono, a noi quei soldi non sono mai arrivati, allora qui c'è un mondo produttivo, un mondo economico che deve essere sostenuto, quel mondo economico, purtroppo ci si è voltato dall'altra parte, ci si è voltato dall'altra parte, soprattutto a chi dice di stare da parte dell'imprenditoria, ecco, allora, bisogna fare ancora tanto, ho avuto l'onere e l'onore di governare anche alcune volte il Consiglio regionale, devo dire che in quei momenti in cui è avuto la presidenza del Consiglio regionale, è andato abbastanza bene, ecco, i consiglieri hanno risposto in maniera molto attenta e sicuramente molto rispettoso delle regole, dei regolamenti del Consiglio regionale, ci sono stati anche momenti molto forti che hanno caratterizzato la mia opposizione, perché io sono un oppositore, quindi io credo molto nella legalità e quando qualche volta sono emerse situazioni di non rispetto delle regole o cubri inchieste giudici, si sono alzati un po' i toni, si sono alzati i toni, perché è giusto che sia così. Bettinari, allora, andiamo 5 minuti prima di salutarci, al punto cruciale, insomma, in cui lei è stato al centro anche di qualche polemica, il suo rapporto attuale e il futuro con il Movimento 5 Stelle. Ma guardi, io sono entrato, ho preso i voti e sono stato il consigliere regionale più votato nel 2019, quasi 10.000 preferenze, andando sui palchi, salendo sui palchi e contrastando le politiche scellerate del governo di centro-sinistra e del governo di centro-destra, così abbiamo preso i voti e per questo sediamo sugli scranni del Consiglio regionale, perché in campagna elettorale i cittadini ci hanno votato per questo, dicevamo centro-destra sbagliato su questo, centro-sinistra sbagliato su questo, dovete votare noi. Benissimo, io sono rimasto così, sono rimasto ancora in questi cinque anni, ho continuato a fare opposizione costruttiva nei confronti del centro-destra, ma anche ricordando le operazioni nefaste, escellerate, politiche del centro-sinistra. Io rimango così, certo, non ho condiviso l'alleanza, non posso condividere un'alleanza, non fa parte di me allearmi con l'avversario politico, quindi le alleanze che ci sono, io non potrò mai fare un'alleanza col PD, con gli uomini di Tagliaviva, con Azione e quant'altro, coerentemente con i voti che ho preso nel 2019. Rimango così, rimango coerente, naturalmente la mia figura dopo tanta insistenza e tante richieste da parte dei cittadini, soprattutto di Pescara, è proiettato adesso a guidare una coalizione civica quale candidato sindaco della città di Pescara, una coalizione civica indipendente, una coalizione civica slegata dai partiti, ma massimo rispetto nei confronti dei partiti e soprattutto nei confronti del Movimento 5 Stelle, c'è un rispetto, ma sicuramente non posso condividere, come ho sempre detto, le alleanze e le coalizioni. Io correrò nella città di Pescara quale sindaco di una coalizione civica indipendente ed equidistante con tante idee per cercare davvero di dare un'alternativa credibile alla città di Pescara, perché alla città di Pescara l'alternativa credibile la puoi dare se sei un qualcosa di diverso. Se ti metti con gli altri, con coloro che hanno già governato, che hanno avuto la possibilità di governare la città di Pescara e ci dicono che domani faranno qualcosa che ieri quando hanno avuto la possibilità non hanno fatto, ebbene questo è il vecchio, questo non è il nuovo. Io voglio davvero cambiare la città di Pescara per una città che possa guardare alle attività produttive, al commercio, alla ricchezza del territorio, una città che deve attrarre. Io vorrei e sogno una città che attrae e non respinge. Oggi purtroppo devo constatare che è una città sporca, maleodorante, piena di buche, insicura e appena arriva un turista scende nella stazione centrale si mette le mani agli occhi perché è il brutto quello che si vede. Ecco, io voglio rivoluzionare questo concetto. Voglio che Pescara diventi una città bella perché è una città bella nel suo profondo, ma dobbiamo far emergere queste cose partendo dalle piccole cose senza promettendo nulla di stratosferico, ma già rendendo una città bella, pulita, attraente. E poi mi lasci dire per concludere, la legalità, io sono quasi un integralista della legalità, ma la legalità fa ricchezza per tutti. La legalità uguale ricchezza del tutti significa rispetto delle regole, rispetto delle leggi e soprattutto rispetto negli appalti, nel conferimento degli incarichi. L'illegalità è una ricchezza per pochi. Quindi quando parliamo di legalità, la legalità, mettiamocelo ben in pende, che è ricchezza per i tanti imprenditori, per le microimprese, per il commercio e quant'altro. Ecco, riportiamo un po' l'illegal, questo dico perché poi le inchieste giudiziarie le abbiamo lette tutte e ci fanno male, e fanno davvero male, ma la Regione fanno male al Comune. Ecco, invertiamo la rotta anche su quello. Parliamo del grande profumo della legalità. Ecco, la sicurezza sarà sicuramente il primo dei temi che lei dovrebbe affrontare da Sindaco di Pescare, ma da Sindaco non è più difficile poi riuscire a vincere certe battaglie? Ma io ritengo che da Sindaco si hanno invece gli strumenti necessari per poter vincerle queste battaglie, non promettendo i miracoli e non promettendo il paradiso perché il paradiso non è su questa terra, ma se in sombra di dubbio io mi impegnerò al massimo, metterò a disposizione tutto me stesso e come ho sempre dimostrato sono stato anche disposto a rischiare la mia vita e continuo a rischiare la mia vita in quei quartieri periferici. Penso che la mia storia parli di me, di queste cose. si può fare, si può fare tanto, si può fare tanto anche e soprattutto con l'ausilio della polizia locale perché il Sindaco governa la polizia locale in naturalmente appoggio alle forze dell'ordine, ma non solo, ma si possono fare anche operazioni di prevenzione, per esempio ne dico solo una, io sogno e lo farò, mandro io di persona in prima linea di squadre di pronto intervento sociale composte da sociologi e psicologi che entrino in quelle case, entrino nella periferia e vanno prima ancora di reprimere a prevenire e a recuperare quel che si può recuperare. Le squadre di pronto intervento sociale naturalmente per entrare in periferia, io le conosco, sono bene, tante volte non vanno, perché direttore? Perché hanno paura, perché non sono affiancate, ecco lì va affiancato dalla forza pubblica ma deve entrare lo psicologo e il sociologo perché in quelle immagini che lei sempre ha riportato egregiamente sulle vostre televisioni dove noi entriamo all'interno del cuore profondo lì ci vuole soprattutto uno psicologo, un sociologo perché lì noi incrociamo la sofferenza, il dorore, la devastazione, il dramma sociale, il degrado sociale, io non prometto nulla ma una cosa è certa, ci andrò di persona, continuerò ad andarci da sindaco di persona anche e soprattutto di notte. Bene, io ringrazio Domenico Pettinale, gli auguro naturalmente buon lavoro per quest'ultima parte della consigliatura regionale e mi pare di capire, ci rivedremo presto anche per i prossimi interventi che riguarderanno più nello specifico la città di Pescara. Grazie e buona serata, arrivederci. Grazie a voi.